Ciao e bentrovati di nuovo su MacRaris, sono Aristide Lapa. In questo video Power Apps vediamo come catturare una foto e salvarla in una libreria documenti di SharePoint. Avremo anche l'opportunità di aggiungere metadati ovvero informazioni relative alla foto che abbiamo salvato. Questo può essere considerato come seconda parte di un video che ho pubblicato in precedenza dove avevamo visto appunto come scattare una foto e salvare in un elenco di SharePoint. Avevo poi fatto notare che il limite che avevo riscontrato, o meglio la difficoltà, era che sul telefono Android non riuscivo a caricare correttamente l'app, anche se sull'iPad funzionava correttamente. Allora a quel punto avevo sospettato il formato PNG in cui veniva salvato con questo metodo di questo video. Perciò in questo video andremo a vedere come salvare in formato JPEG e col formato JPEG non dovremo avere problemi col telefono e in più avremo un vero e proprio file che potremo usare con altri applicativi o altri usi. Colgo l'occasione per ringraziare Shenyang di cui il video ho tratto tante ispirazioni per poter realizzare questo video. Andiamo quindi in corrispondenza del nostro Power Apps e iniziamo come al solito con alcune piccole configurazioni. Andiamo prima ad inserire un rettangolo. Il rettangolo lo posizioniamo qui come testata Andiamo ad inserire un'etichetta Questa etichetta inseriamo cattura e salva in libreria SharePoint Andiamo in corrispondenza della proprietà color E qui diamo un bianco con white, tabulazione Qui possiamo andare in home e dare un semigrassetto E qui possiamo dare 25 Ok, vado a fare solo un po' di formattazione Perfetto Andiamo in corrispondenza della visualizzazione struttura Questa è la nostra testata Doppio clic e inserisco testata Rec E qui possiamo dare una colorazione di fondo di questo colore Inseriamo adesso una fotocamera Supporti E qui inseriamo fotocamera Che vado subito a rinominare qui come fotocamera Ok, la posiziono qui Vado ad inserire un supporto immagine Che permetterà di visualizzare la foto che è stata catturata Che la metto qui Inserisco un pulsante E il pulsante permetterà di catturare la foto Doppio clic E inserisco cattura foto Questo pulsante lo chiamiamo BTN cattura foto La colorazione di questo pulsante la possiamo associare al colore che abbiamo qui intestata Per fare questo andiamo ad utilizzare questo metodo che ho trovato molto utile Andiamo qui e facciamo fill E in corrispondenza di fill Diciamo semplicemente che la sua colorazione deve essere uguale alla colorazione di testata Rec Inseriamo testata Rec E qui invio E solo così ha preso la colorazione di questo Ok, qui dovremmo essere a posto per poter catturare la foto Vuol dire che dobbiamo configurare questo pulsante come abbiamo visto nel video precedente In corrispondenza della proprietà on select Andiamo a dire che una volta che clicchiamo su questo avremo un update con test Dove abbiamo cattura foto Qui dobbiamo inserire parentesi graffe e qui chiudere Cattura foto come variabile Due punti E sarà uguale a fotocamera La nostra fotocamera che abbiamo rinominato Punto stream Ok, in corrispondenza di questo fotocamera Dobbiamo andare in stream rate E dire che qui abbiamo bisogno di un stream rate di 100 Ora che abbiamo fatto questo Possiamo andare in corrispondenza di questo supporto E dire che vogliamo avere come supporto Cattura foto Che è la nostra variabile che abbiamo definito Ora se vado qui alt e clicco su questo Abbiamo qui la foto catturata Ora vado ad inserire qui un'icona Per cambiare la camera che viene utilizzata La telecamera, la fotocamera Inserisco icone Scelgo la prima La metto qui Avendo scelto questa prima Vado qui a destra Clicco su aggiungi E qui posso inserire foto per cercare E qui ho fotocamera Ok, allo stesso modo che abbiamo fatto prima il suo colore Colo Sarà uguale a quella della testata Testata REC Ok Vado in corrispondenza ora di ONSELECT E qui in corrispondenza di ONSELECT Voglio fare in modo di attivare le diverse fotocamere sul dispositivo Nel video precedente avevamo visto questo con un elenco a discesa In questo approfitteremo per vedere l'utilizzo di switch Per passare da una fotocamera a un'altra Vado qui e inserisco switch E definiamo una variabile che è CAM Quindi CAM Ok E qui diciamo E qui diciamo E qui avremo Quindi come puoi vedere da questo suggerimento Switch Diamo un valore di switch Che è CAM Che è la variabile che definiamo qui E in corrispondenza di questo valore Avremo questo risultato Valore risultato Perciò quando sarà 0 Passerà 1 Quando sarà 1 Punto virgola Passerà a 2 E qui abbiamo 2 Quando invece sarà 2 Passerà di nuovo A 0 Inserisco questo E qui abbiamo 0 Posso andare in corrispondenza di questa freccia Qui prima invio Ok Qui non mi dà la possibilità di Formattare quello che ho inserito Pazienza Dice qui che c'è un errore Andiamo a vedere L'errore dove può essere Andiamo a cliccare A posizionare caratteri non previsti Parent close dove è previsto End off Quindi qui dice che Aspetta Ha qui una fine Ok Questo E siamo a posto A questo punto appare il formato a testo Che cercavo Quindi formato a testo E Abbiamo questo Quindi switch può essere utile rispetto a If Quando abbiamo diverse corrispondenze di valore Che vogliamo testare per una condizione Ok A questo punto Dobbiamo collegare la telecamera a questo Quindi andiamo a selezionare questo E In corrispondenza di camera Diciamo che non è più Zero Ma è Cam Facendo in questo modo Andrà off Perciò per riattivarla Visto che sono in modalità di sviluppo Devo andare in corrispondenza di configura Salva foto schermata Lo screen E devo dire che quando lo screen è visibile On visible Mi deve fare Questo incollo quello che avevo prima Update contest Camera E inizializzarla A zero Che è quello che sto utilizzando attualmente Visto che questo è un visible Creo un'altra schermata Vuota E vado qui a dire Up E clicco qui Dico Esegui on start Così poi Quando vado A passare All'altra schermata A passare a questa schermata Automaticamente Mi si aggiorna Ok Ora andiamo a vedere Come salvare la foto Prendo qui un pulsante La posiziono qui Due punti Inseriamo Salva foto Sharepoint Ok Ingrandiamo qui un attimino Perfetto Colore Facciamo esattamente come La prima volta Ok O la volta precedente Andiamo qui Editiamo Che è testata Testata REC Ok Qui ho fatto solo un piccolo errore Ho detto Color Testata REC Per La scritta Ok Vediamo se Control Z Funziona Clicco fuori Control Z Control Z E non sono abbastanza fortunato Con Control Z Quindi vado qui a togliere questo Metto semplicemente White Ok E in corrispondenza Di fill Posso inserire Testata Ok Perfetto Ora dobbiamo configurare questo pulsante Per fare in modo che la foto venga salvata Approfittiamo per inserire quello che ci serve come nome di file e informazione relativa al file Vado qui a inserire Vado qui a inserisci Etichetta E qui abbiamo l'etichetta come nome file Doppio clic Nome file Inserisco Questo nome file Inserisco un input di testo E metto qui l'input di testo Ok E qui non abbiamo niente E in corrispondenza di questo hint test E in hint test inserire Nome file Ok Copio questo Etichetta Inserisco qui E qui inseriamo ad esempio dipartimento Ok Inserisco un input elenco a discesa Dove potremo scegliere il dipartimento Ok Inserisco questo E all'interno di questo in corrispondenza di items Apro chiudo queste parentesi quadre E qui virgolette e virgolette Punto virgola Virgolette e virgolette E qui all'interno posso inserire Finance E qui ad esempio Marketing Pardon E qui Marketing Ok Dopo aver fatto questo Poi procediamo con Un altro controllo di cui avremo bisogno Per visualizzare l'informazione Ora che abbiamo il pulsante Salva foto Sullo SharePoint Questo pulsante deve attivare Power Automate Perciò vado in Power Automate Nel frattempo ti faccio vedere Qui la mia libreria Documenti in SharePoint In questo sito di SharePoint che ho creato Imparo Power Apps Qui nome Data modifica Poi altre informazioni E qui abbiamo Tipo documento E potrai procedere ad aggiungere altre colonne Accedo al mio Power Automate Qui Crea Vado a cercare un modello SharePoint Già disponibile SharePoint Vado qui in basso e cerco Upload photo Come modello Upload photo to SharePoint from Power Apps Clicco su questo E qui accetto le varie autorizzazioni Qui all'interno abbiamo anche Office Anche se non ci servirà Office 365 Outlook Continua Qui vado a dare un nome subito Doppio clic E dico demo Video E qui abbiamo il connettore Power App Power App converte l'immagine che ha preso in un formato JPEG Quindi questa variabile permette di convertire E qui abbiamo l'output da questa variabile Ok Qui dobbiamo indicare il sito su cui dobbiamo creare il file Il nostro sito di SharePoint Vado ad indicare il mio Questo è imparo Power Apps E in corrispondenza delle indicazioni del mio sito Vado ad indicare dove salvare E qui è in documenti condivisi Questo è il nome del file che abbiamo qui Questo è il contenuto del file Abbiamo detto che vogliamo anche avere informazioni relative Alla foto che salviamo Al file Quindi andiamo ad aggiungere una nuova azione Aggiungi un'azione SharePoint SharePoint E andiamo a cercare Aggiungi proprietà E qui abbiamo Aggiorna Non aggiungi Aggiorna proprietà file Clicco su Aggiorna proprietà file Vado di nuovo ad inserire il mio sito di SharePoint E me lo da automaticamente Scelgo semplicemente Vado ad indicare il nome della raccolta E qui è documenti Devo indicare qui l'identificativo univoco del file salvato Andiamo nel contenuto dinamico E qui abbiamo Item ID Titolo non ce ne importa Tipo documento è quello che vogliamo indicare E per indicare questo tipo documento Dobbiamo chiedere a Power App Quindi vado qui sotto Quindi vado qui sotto e cerco Qui in corrispondenza Di Power App Vedi altre Scendo di nuovo E abbiamo Chiedi in Power App Devo essere qui all'interno Ok E vado a selezionare Chiedi in Power App E automaticamente avremo Aggiorna proprietà file Tipo documento Dopo aver fatto questo Vorremmo avere il link Per la visualizzazione dell'immagine Che abbiamo appena salvato Inseriamo di nuovo un'altra azione Clicco qui Aggiungi azione Cerchiamo il connettore Power App Clicchiamo su Power App E in corrispondenza di Power App Abbiamo una sola azione Rispondi a un'app Power Apps O a un flusso Risponderemo Da Power App Alla nostra app di Power App Con il link dell'immagine Rispondi a Power App Ok Qui clicchiamo Aggiungi output Qui inseriamo testo Inseriamo qui PA per Power App Nome file E qui praticamente Siamo a posto Qui sarà la risposta Questa risposta Dobbiamo configurarla Andiamo in corrispondenza Di espressione E prendiamo la funzione CONCAT All'interno di CONCAT Tra APC Dobbiamo indicare Prima l'indirizzo del sito Dove salviamo i file Vado a selezionare Qui l'indirizzo del mio sito Fino a prima documenti allo slash Copio Vado in corrispondenza del flusso E qui inserisco questa prima parte Dopo l'apice Virgola Vogliamo concatenare Andiamo a contenuto dinamico Crea file di SharePoint Dobbiamo andare alla categoria Crea file Qui aggiorna Crea file Crea file E in corrispondenza di crea file Dobbiamo selezionare Paz Il percorso Ok E qui fare Ok Per inserire La formula Qui all'interno In questo modo Avremo questo All'interno di Power App Vado a salvare questo Qui dice Che c'è un errore In corrispondenza Dell'altra parte Che non abbiamo considerato Di inviare una mail Nel caso in cui Questo flusso falisce Qui inserisco Semplicemente Il mio indirizzo Oppure posso anche cancellare Questa parte Faccio prima di inserire Il mio indirizzo Ed è a posto A questo punto Posso salvare Ok E' stato salvato Esco E qui siamo all'interno Del nostro flusso Non ci sono state azioni Per ora Ora vado In corrispondenza Del mio Power App E dobbiamo configurare Questo pulsante Per fare in modo Che chiami Il flusso Di Power Automate Per fare questo Andiamo in azione E qui abbiamo Power Automate E andiamo a vedere Il nostro flusso Configurato E' Demo Video Clicchiamo su questo Demo Video E' stato aggiunto Attendere Ok A questo punto Quando abbiamo questo Possiamo chiudere Perfetto E in corrispondenza Di questa istruzione Andiamo a cliccare dentro E dobbiamo indicare Qual è il nome del file Il nome del file Deriverà da Questo input Per cui Qui posso andare A rinominare questo TXT Nome File E in corrispondenza Di questo Avremo Che è uguale A TXT Nome File Punto Text E qui Associamo Anche l'estensione L'estensione Sarà Punto JPEG E qui Chiudiamo Punto Virgola Come argomento Dobbiamo indicare Il contenuto Del file E il contenuto Del file È contenuto All'interno Della variabile Che abbiamo Abbiamo creato Cattura Foto Cattura Foto Punto Virgola Avremo poi Aggiorna Proprietà File Tipo E questo Sarà Qui all'interno Del nostro Dropdown Quindi metto Dropdown Uno Che non rinomino In questo caso Punto Selected Test Punto Value E con questo Abbiamo Il salvataggio All'interno Dello SharePoint Perciò Possiamo andare A cliccare Su questo Per vedere Se effettivamente Funziona Anteprima Vado qui Ad inserire Ad esempio Prova Uno Lascio qui Finance E poi qui Salva foto Sullo SharePoint Ok Il salvataggio In corso È richiesto L'accesso Faccio Esegui Autenticazione Ok Dovrebbe Dovrebbe essere andato A buon fine Andiamo a vedere Il nostro flusso In Power Automate Faccio qui Aggiorna Vediamo Il flusso è riuscito Andiamo Andiamo nella libreria Di SharePoint Vediamo che la foto È stata caricata Quindi se clicco sopra La possiamo vedere Punto jpeg Abbiamo qui La foto Torno indietro Andiamo in Con il pondenza Di Power Apps E qui vediamo Come vedere Il link Che è stato generato Che è qui All'interno Per vedere il link Dobbiamo andare A configurare Una variabile Che prenderà Il link Restituito Qui intanto Inserisco Un'etichetta E questa È l'etichetta Che posiziono qui Non abbiamo più spazio Questa etichetta Inseriremo La variabile Per leggere Il link Che viene restituito Dal Power Automate In corrispondenza Della nostra Istruzione Qui andiamo A definire Una variabile Set La variabile La chiamiamo Link File Punto virgola E al link File Andiamo a dare Questo valore Che è tutto Questo E qui In corrispondenza La nostra azione Power Automate Inseriamo Punto E qui abbiamo P A nome File Che è collegato A quell'azione Di Power App Dove abbiamo scelto Rispondi A Power App Con il concat Percorso Per accedere Al file Scelgo Questo E chiudo Qui La definizione Della variabile Con parentesi Con parentesi Ok Qui possiamo fare Formato a testo Per vedere In questa Modalità Link File A questo punto Andiamo qui E lo inseriamo Qui all'interno Test Inseriamo qui Link File Ok Ok E se ora Andiamo a salvare Nuovamente Questa volta Facciamo ad esempio 2 Ok Scegliamo Marketing Salviamo E a questo punto Abbiamo qui Il percorso Del file Che abbiamo salvato E qui Il nome A questo punto Ci è più comodo Andare a mettere Quest'informazione All'interno Di un pulsante Così quando clicchiamo Accediamo direttamente Alla pagina Dove possiamo Visualizzare L'immagine Inseriamo qui Questo Andiamo in Fill E qui diciamo Testata Ok E qui è Vedi Foto Ok Su SharePoint Sottinteso Andiamo quindi In OnSelect E in OnSelect Diciamo Che vogliamo Link File Ok Se ora Andiamo qui E clicchiamo Su Vedi Foto No Non è sufficiente Perché in corrispondenza Di questo Non vogliamo Solo Link Foto Ma Copio questo Control X Vogliamo Launch Per Aprire Un'altra Scheda Dove possiamo Visualizzare All'interno Del nostro Browser Ora In anteprima E qui Vedi Foto E abbiamo qui La foto Che è Visibile Ok Bene Ci manca solo Un'ultima configurazione Faremo in modo Che quando Non abbiamo Foto O quando Resettiamo La telecamera Che questo Questo E questo Non siano visibili E che Vedi Foto È visibile Solo quando Effettivamente Abbiamo Il link Del file Andiamo a Inserire qui Un Ripristina Un'altra icona Ok Andiamo qui A icone Inserisco Questo Vado qui La posiziono Qui Andiamo qui In icona E qui Abbiamo Ricarica Ad esempio Che può andar bene Il suo colore Come prima Color E qui È testata Rec Ok Andiamo Sul Suo OnSelect E su OnSelect Diremo che L'azione di questo È di rendere Vuoto CatturaFoto La variabile CatturaFoto Abbiamo usato UpdateContest E qui abbiamo CatturaFoto Scendiamo qui CatturaFoto A questo punto Diremo che È Blank Tabolazione Qui Chiudiamo E chiudiamo Qui Parentesi Graffe E chiudiamo qui UpdateContest Punto virgola Punto virgola Un'altra variabile Che vogliamo settare Blank È link Ma qui abbiamo Utilizzato Set Perciò andiamo a dire Set Tabolazione E qui abbiamo Bisogno di LinkFile Tabolazione Punto virgola E anche qui Avremo bisogno Del Blank Blank Qui Chiudiamo E chiudiamo Ok Ora dobbiamo andare ad agire sulla visibilità di questi elementi Selezioniamo questi tre elementi Ok Trascino così e seleziono Control Seleziono anche Salva E in corrispondenza di queste selezioni Vado a cliccare qui E metto che è un gruppo Ok Non rinomino il gruppo Potrai portarti avanti e farlo In corrispondenza di questo gruppo Andiamo con la proprietà Visible E qui diciamo If Tabolazione IsBlank Cattura foto Cattura foto Qui chiudiamo Vuol dire che è False Altrimenti è True Ok Andiamo in corrispondenza di questo E diciamo E diciamo qui che In corrispondenza di visible If IsBlank LinkFile Qui chiudiamo Punto virgola Allora il false La visualizzazione Altrimenti True Ok Qui andiamo a Ricaricare Non vediamo più niente Quando facciamo Cattura foto Abbiamo questi elementi Questo è Tre Qui possiamo salvare Una volta che salviamo Abbiamo qui sotto Anche Vedi foto Una volta che clicchiamo qui Vediamo La foto Ok Grazie per l'attenzione Se questo video ti è piaciuto Un pollice in su Per sostenere il canale Macraris Se vorrai ricevere avvisi Per contenuti similari Registrati al canale Macraris E attiva il campanellino Per essere Avvisato Quando postiamo Nuovi video Grazie ancora per l'attenzione E a presto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie per la visione!